Lorenzo Riccardi e Claudia Genigi aspettano una bambina. Già qualche settimana fa la coppia più famosa di uomini e donne aveva rinunciato sui loro profili Instagram che presto avrebbero condiviso con i loro fan e follower l'essesso del loro bambino. E così è successo ieri. Con una festa creata, proprio organizzata, positivamente ormai tutti quanti fanno queste feste chiamate proprio il Ganderela Party, spopolato anche in Italia per far scoprire a tutti quanti parenti, amici e persone più strette il sesso del loro bambino. E ovviamente hanno scoperto che è una femminuccia e non poteva mancare anche in questa occasione l'ironia proprio di Lorenzo. Nel video che i due hanno pubblicato su Instagram si vede Claudia molto emozionata e con le lacrime agli occhi. Poco prima però di aprire l'armadio ha rivelato il sesso del nascituro, anche Lorenzo era molto emozionato ma a modo suo ha sdrammatizzato dicendo così due femmine, due, ha detto stringendo e baciando la sua Claudia. Il party è stato molto semplice ed elegante perché non hanno acceso fumogeni o addirittura, scoppiato palloncini, due futuri genitoni, infatti hanno aperto solo un armadio dal quale sono usciti tantissimi palloncini rosa e dove c'erano già dei regali per la piccola in arrivo. Giorni fa Lorenzo Riccardi aveva confidato tramite delle domande sul suo profilo Instagram che avrebbe voluto un maschietto quindi per lui ieri sera c'è stata una piccola delusione vedendo quei palloncini rosa ma l'emozione si sa è lampante e un figlio è sempre una gioia maschio o femmina che sia. Dimmi tu che cosa ne pensi di questa meravigliosa coppia nata a uomini e donne. Lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Grazie per la visione!